Amici di Rai 1, buongiorno, breve aggiornamento sull'e-traffico. Si preannuncia una giornata abbastanza fredda un po' ovunque e nuvoloso al sud con venti settentrionali ancora sostenuti sulle aree adriatiche, su quelle ioniche e sul basso tirreno. A tal proposito si consiglia il transito a furgonati, telonati e caravan sulla 16, la Napoli Canosa sulla 30 e sulla 2 autostrade del Mediterraneo. Viabilità intense in direzione dei centri urbani come si evince dalle immagini che monitoriamo. Qui siamo sulla 4, ci sono code alla barriera di Milano-Est, sul tratto Capitolino. In questo momento abbiamo code e anche qui alla diramazione di Roma-Sud in direzione del grande raccordo anulare. Queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione ed Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità guidate con prudenza, fate buon viaggio e la linea Valtigi 1. Arrivederci.